messaggio da Silvia Lubacchiotta allora Silvia io ho provato con mia madre a fare questa prova su youtube ho taggata la community e risulta la menzione la menzione sull'entrifiche risulta menzionata nel canale di Giovanni John poi ora provo adesso con il video faccio questo video, ti taggo a te intanto non c'è nessun problema penso no, adesso sei taggato non credo che sia un problema intanto non è che stavo facendo niente di male sto solo facendo una prova io ho fatto il tag sia a te sia a ieri quella volta che ho avuto un messaggio di 44 max e ti è arrivato comunque la notifica in qualche modo poi io ho provato con mia madre stamattina e a mia madre sul cellulare gli arriva la notifica Giovanni John ti ha taggato ti ha menzionato il suo canale la community quindi ci arrivano i messaggi ho fatto pure la prova che ho levato l'iscrizione al mio canale perché mia madre era iscritta al mio canale ci ha tolto l'iscrizione ci ha tolto il follower e giustamente è arrivata la notifica quindi ti è a posto e arriva la notifica allora ci arriva arriva pure a te vedi sulle menzioni i cose che Giovanni John ti ha menzionato nel canale ti ho fatto stamattina ti ho menzionato pure a te per vedere se la per fare la prova vedi su menzioni su notifiche e menzioni se non ti arriva sulle notifiche la mia madre è arrivata la notifiche è arrivata quindi ci arriva comunque a meno che non ha silenziato i notifichi ma non credo perché riesci a fare questo non credo che si può fare non lo so poi ti mando un saluto forte Silvio grazie per il sostegno e l'aiuto grazie per la notifica